Ogni mattina, già come fu l'era, non mi faceva il sonno, mi chiamò, passando via la cazza di fu l'era, pensavo, ma non c'è nulla. Poi riflettevo, un'unica così triste, e a vedere che abbiamo, non fa massare, per dare mangiare il Signore di Gesù Cristo, i tempi sono uguali, ma... sono uguali, eh? Ecco a me avevo cartocci sotto, ma solito i cartocci vanno asciutti, con i bambini alzati nel cappotto, un po' troppo vecchio, e troppo scherzo. Ma una mattina, una mattina è festa, povera mamma si accattava con l'astro, la moglie che guardava la finestra diceva, ha fatto la spesa, è vivo il Mastro, e quando c'è fuori da casa, ha feste il ballo, tutti i guaglioni ha preso con l'astro, dice tu Mastro, sembra un pappavallo, è la moglie, e quando dice una uccella? La moglie ti raccomanda, lesta, lesta, con poche cipolluzze, ha cacciato ora, gli vado a sentire a messa, e torna presto, prepara tutto, a nome del Signore. Basta venimmo a noi, con il trattatore, a casa mentre trattava la famiglia, quando ha scelto con l'astro la Signora, fu un problema, come andava qua lì. Questa uccella era una Luigina, è stata una uccella a Matalena, la curva che ti ha detto a Pasqualina, che c'era un po' a Filomeno. Questa uccella era una Vicenza, e a Carmelucci è stata una uccella. E già, dice allora un Giacomino, per te per il resto, sulla capuzella. Ma io sono contento, e io pure sono contento, per fare un moccanico con il tuo Mastro. Rocco, dan dan, almeno a sto momento, di che tu me se mangi un mullastro.